Il misterioso omicidio di Eva Numenis fa da preludio a Shinoir, portandoci nella centrale di polizia di Trinitatis, dalla quale partiranno le nostre indagini. Scopriremo presto che la nostra protagonista, Sofia, non è una semplice poliziotta, è anche una ladra e un'assassina, ma soprattutto una donna a caccia di un passato che l'è stato rubato. Nelle oltre 5 ore di gameplay, il giocatore esplorerà 40 ambientazioni divise in 7 capitoli, immerso in ricchi dialoghi che sveleranno poco a poco l'intricata trama del gioco. Si può giocare inoltre in modo abilità, nel quale gli ambienti vengono generati con oggetti sempre diversi e dove la sfida è il tempo che si impiega a svelare tutto ciò che è nascosto. Sviluppato per PC, Mac e iOS, Shinoir è prodotto da Nebula e Ticom Blue.